Tra poco il Via ha una nuova stagione per l'Hub Pineto Volley, che stagione sarà e che formazione state allestendo? Sarà sicuramente una stagione impegnativa, dopo l'ultima stagione che comunque siamo usciti in semifinale play-off l'obiettivo è quello di migliorare e la società ha dato l'opportunità a noi dello staff di lavorare bene e cercare di allestire comunque una squadra competitiva che proverà a portare il nome di Pineto in giro per tutto il centro Italia. Abbiamo visto già tanti nuovi elementi arrivare, che tipo di formazione state allestendo? Quest'anno, a differenza della scorsa stagione che abbiamo puntato più su una squadra giovane, abbiamo deciso di mettere in rosa dei giocatori esperti quindi comunque sì abbiamo pescato anche da categorie superiori, penso che la squadra è un giusto mix tra atleti esperti e giovani molto interessanti che sicuramente si metteranno in luce e faranno bene a Pineto. Come diceva anche il general manager sicuramente sarà una stagione importante, sicuramente bisogna migliorarsi come lei stesso ha detto ecco, si punta comunque in un bienio di centrare l'obiettivo, quello della promozione. Esatto sì, l'obiettivo di questa società che sono anche gli organizzatori di questo evento, nonché presidenti e main sponsor è quello di, abbiamo deciso appunto un paio d'anni fa di provare a vincere il campionato e riportare il Pineto in A2 come 10-15 anni fa insomma. Un obiettivo che si potrà raggiungere come lei pensa? Ci proveremo sicuramente già quest'anno perché appunto abbiamo allestito una squadra molto competitiva.